Una volta, alla festa della nonna che avevamo fatto, forse di 90 anni, ho conosciuto, la conoscevo già, che era nostra cugina e che mi ha detto che papà da piccola gli aveva sparato nella gamba ad andare in bicicletta. Sì, sì, è vero, la Palmira. La Palmira? Sì, questa signora sta qui dietro, c'è una villetta, è una mega villa, gli dice manca la piscina e basta. Come gli aveva sparato? Sì, gli aveva sparato con la carabina, perché tu qua non stava mai fermo, tutti lo prendevano per il scherzo e lui non è che fece per fargli del male, per così, per ferirla, no, e lui... Cazzo, una carabina cosa vuoi fare? No, ma nel senso. E fa male, perché se ti appropaggiamo la mia moglina, la magia. E diceva, non pigli da nessuna parte, ne passava, fa l'acqua e ne pigli la gamba. Ma lei era in bicicletta? Sì, sì. E papà sparava la gente da picco? Ma no, non eravamo delinquente. Sparava le cugine? Sì, solo le cugine. Non passava le cugine.